Non lo vado più Non lo vado più Nessuno bivagante in lista Non potrebbe dare la chiave della pattuglia, se vuole prendermela, grazie Chi è questo? Mi scusi, perché diamine lei dovrebbe avere le chiavi della pattuglia? E soprattutto perché lei è in mutande, scusi? Eh perché poco fa mi seguiva la polizia e me la sono fatta sozzo, quindi ho macchiato gli abiti e li ho dovuto buttare, non lo so. Ma la tua sessualità è un po' incerta, mi scusi, ha un viso così femminile e una barba così... Guardi, ho avuto un incidente, purtroppo, mi hanno fatto un po' di interventi, mi hanno detto i tempi a barba lunga. Bruzzo, guardi qua, guardi, eh. Per favore non lo dica a nessuno, eh. Ma chi sono questi due pazzi? Guardi, eh, che brutta cosa. Sì sì, meglio assolutamente. Eh, niente. Eh, te chiami, mi hanno detto te chiami, dai. Ma no, no, guardi, guardi, anzi, eviti anche di dirmi una cosa del genere che qui rischiamo di alzare i toni e va a finire che li porto tutti e due in prigione per... ...dotto per girare in muta. Esatto, direi atti uscini in luogo pubblico. Allora, la gente, io mi... Allora, la gente, io mi... Allora, la gente, io mi... Allora, la gente, io mi muciucco la macchina, la gente, io mi lemo la scuola, io, dai. Scusi, stiamo appellando qua a fare l'italiano, americano, anche per l'italiano. Allora, la gente, però devi capire il siciliano, la gente, se no... La gente, se non capisco il siciliano, come fa a capire i mafiosi, eh. Non lo so io, va. Oh, la gente, non potete spostare una macchina. Non riesco a prendere il mio mafiosi. Ah, sì, sì, la sposto subito. No, 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 che sposto, la macchina, la gente, la sposto io, la gente, la sposto io, la gente, la sposto io. No, non si preoccupi, faccio da solo. 5 dollari, la gente, 5 dollari, la gente, gli spara su di questa macchina, non è usata, le ruote russi, No, no, è perfettamente nuova. Signor Giovanni, signor... Si vuole arrestare, mi arresta per favore, quindi, per molestire le stocking, non so. Adesso... Ragazzi, su G.I.N. si incontrano davvero i tipi più strani, credetemi. Allora, fermiamo 5 minuti uguali, fermiamo 5 minuti uguali, fermiamo 5 minuti uguali. Allora, che dobbiamo fare? Il mio governo, io sostieno positivo perché sono io, perché sono io. Dopo questa le ho sentite tutte. Signor Giovanni, siamo lontano. Ehi, fallback! Veromare mi ha fermato l'agenda, signor Giovanni, stiamo qua dentro. Agenda Mappi, vada a prendere la sua pattuglia che qua richiedono un trattamento sanitario obbligatorio. Sì, assolutamente d'accordo, sceriffo. Agenda si dice il PSO. A tutte le unità stiamo trasportando due soggetti per un TSO in quanto stanno compiendo atti veramente, veramente assurdi. Procediamo a trattarli con cura nella nostra clinica. Agenda, buonasera. Che succede, Agenda? Allora, Agenda, io vorrei una testa, un zappone nocica. Agenda, che succede? Perché ho le manette? Eh, perché... Guardi, lei... Merit, però preme una... Ok, sceriffo, dove li porto? Eh, guardi, guardi, guido io, parca gomma. Ok. Che succede, eh? Agenda, ma che gli dà? Agenda, a lui, una gift card a me no. Ah, no, no, ora la diamo a tutti, la gift card, non si prego. Agenda, mi potrebbe... Agenda, mi potrebbe chiudere, da quando ho avuto incendio, ho estinto i suicidi, Agenda. Potrebbe chiudere la vettura? C'è ragione, c'è ragione. Alex, chiudo la vettura, Agenda. Ah, sì, sì, chiusa, chiusa. Che qua non si sa mai che questi soggetti sono articolabili. Agenda, 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 mi ha mandato un messaggio, fermatevi subito. E' caduto alla macchina, si è lanciata, Agenda? Agenda... Ma come? E' impossibile, è chiusa la macchina. Dov'è? Agenda è là sotto. Non si crede. E' un pazzo, quella, Agenda. Dov'è? Un po' più avanti. Qua è, lo vedete? Eccolo, ma come ha fatto che c'è la macchina? Si vuole fare ammazzare. Si vuole fare ammazzare. Oh, signore. Agenda, la macchina, ha perso la macchina. Sì, l'agenda del suicidio, purtroppo sono ancora qua. Non ci credo. Non ci credo. Il tuo caso è davvero, davvero grave, qua. Agenda, non le dico quando c'è... Chiusa, chiusa. No, cacchio. Ragazzi, ma io che c'entro? È chiuso. Agenda, è meglio che c'entro, che sono pure in macchina. E' perché gira anche lei in mutande, signore. Non si può girare in mutande. Come in mutande? No, 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 no. È vestito, eh. Guardi che anche lei aveva comportamenti alquanto sospetti. La sua planità mentale sarà da giudicare a breve una volta arrivati in clinica. No, ragazzi, è che mi stava annoiando a vedere qua la solita monotonia. Stavo trovando i comandi, ragazzi. Ci sono comandi che ancora non le conosco qua su Arma, capito? Sì, guardi, guardi, dobbiamo portarlo comunque in clinica, che i suoi comportamenti non sono consoni alla Repubblica di Senni. No, ragazzi, siccome ho comprato un mouse nuovo, con i comandi e con i tasti programmabili, stavo vedendo come... Mi scusi, non porti dal fuori l'RP, piani l'RP. Oddio. La gente, che si mangerà in cella, la gente? Spatoli, nici... Ah, stiamo andando alla clinica. Ah, se mi fa la muta io ho un bug, questo è un po' più sicuro, le visite mi pagate valte, ah. Io, mentre faccio gli individui, ah. Se c'era dormiva. C'è questa maglia. I sottotitoli ci vanno. Giovanni, ancora mi devi dare 500.000. Sì, pagate lo culo. Ragazzi, ha voluto 500.000 prestati. Mi ha detto, mi devo comprare un garage. E invece si è messo a fare beneficenza. La Maria, a chi vedeva, regalava 50k a chi vedeva. Allora vede che evidentemente, il trattamento sanitario è obligatorio. E poi, e poi, e poi, e poi si mette in chiesa. Un'ora è stata in chiesa a fare il 5x1000. Madonna in Italia, col cuore l'allegria. Quando si dice che i preti sono ricchi. Occhio, occhio, ah. Agenda, ce ne morroia, Agenda. Ma è una persona come Giovanni per farle diventare un bubbre delizio. La natura è stata proprio crudele. Eh, poteva andare peggio, Agenda, poteva piovere. Guarda, ma chi è rotta, Agenda, ma voglio rubarla. Abbra, abbra, abbra. Grande citazione, guardi. Per questo proprio potrei... Agenda, io, 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 se fossi lei perderei il controllo. Ci butteremo tutta la mano e moriamo tutti insieme felici e contenti. Ah, basta che è quasi quasi... È una bella proposta. Adesso vi porto nella clinica privata. Agenda, non... Agenda, non avete mai provato una cosa. Ragazzi, si vuole suicidare, poi non vuole essere rianimato. Mi piace aspettare 500 secondi. È un pazzo questo. 500 secondi vuole aspettare. Mi pregava per farsi schiacciare poco fa. Questo è un mito. Anzi, dovete incassare il signore che sono ancora vivo dopo un volo. Questo l'ho sempre in chiesa a pregare. Cioè, voglio vedere io. L'angelo da un'auto a 122 trattori, sono ancora vivo in piedi. È, però... È il karma questo. Se si vuole suicidare, mi sa che deve pregare meno. Va bene, cerifo. Prenda uno dei profetti e mi prego. Fammi schiacciare di più. Oh, signore. Che è successo? Oddio, questo ritorna subito. Non l'attento, devi parlare... Agenda, ma perché mi devi fare adorare queste piante? No, agenda, sono pisciati nei canali. Schifio. Venga, venga. Ma la porto nella clinica privata. Ragazzi, ma vera e mutande sono, ragazzi. Ok, questo bunker lo conosco. No, ragazzi, questo poi è un mito. Allora, questa per un po' per la vostra nuova casa. Bello. Si sta ammazzando, si sta ammazzando. Si sta ammazzando. Cosa fa? Si affermo. Cosa ha te fatto? È un pomeriggio che gioca così a mortacchi. Rimane sempre vivo, no? Non è un po' per la vostra nuova casa. Non è un po' per la vostra nuova casa. Dove è? Oddio. Si sa che si vuole buttare dalla super. No, no, no. Dove? Oh signor E' un passo questo Cosa ha fatto? Scheriffo gli posso sparare No, non lo vedo più Dove cacchio può correre? No Finalmente si è fermato Oh signor ragazzi dopo questa le ho viste tutte La gente è morta finalmente, l'avete fatto felice? Si finalmente l'abbiamo accontentato Perfetto, ora vedete che non vuole essere rianimato per 500 secondi E' un bacio E' un bacio Ho visto, ho visto Dopo queste pensate di averle viste tutte qua su Cheyenne Agente Alex, porti qui con la vettura l'altro Si ha ricevuto Si ha ricevuto Ma lo vedo muovere, dov'è? Aspetti è che la porto con la vettura insieme a me Cosa? La porto come un attimo con la vettura, raggiungiamo lo scheriffo Sì, rapina e banca, mi sparano Ok Qui ci ha voluto arrivare più presto Agente Shooter si sta avvicinando Ok ragazzi, adesso dobbiamo andare seriamente alla rapina alla banca perché... Agente Menegazzo, arrivo anch'io 1, rally up 3, rally up Converso Cayo Comenca Sì,